Ciao a tutti! Ciao da Ficarra e Picone e i nostri baffi! Allora, certo, ci siamo fatti crescere i baffi per quest'occasione! Pure senza baffi la potevamo dare alla notizia, però certo poi i baffi è una notizia più... Esatto, la notizia con i baffi, no? In realtà non è per questo che abbiamo i baffi, ma siamo qua per dargli una bellissima notizia. Incastrati! Incastrati! Ci sarà una seconda stagione! La terza! La seconda? La terza? Un po' la seconda l'abbiamo fatta! La seconda, la terza... Non abbiamo fatto che l'ho vista! No, ma che hai visto? La seconda stagione di Incastrati, vi aspettiamo, mi raccomando! E allora io che ho visto! Che nemmeno?